Si intitola Parabellum ed è il nuovissimo singolo della cantante Leila Eman. E' uscito venerdì 11 settembre, due giorni fa in radio ma anche in digitale, Parabellum, prodotto da Rambla per Oniro Rookis. Leila, la rapper romana per eccellenza, classe 1999, viso angelico, temperamento piuttosto forte, audace, esprime attraverso la musica quello che è lei stessa e va a fotografare la realtà circostante, riversa ancora una volta tutto ciò che ha nelle sue straordinarie angelicate, cazzoni. Un brano forte, aurico, angelicato, secondo me piuttosto duro, da come si legge sul web, che però lascia spazio alla speranza di riuscire, di farcela, spinto dalla fame, spinta dalla fame che lo caratterizza l'ultimo verso della seconda strofa che chiude questo concetto. Il video è diretto dal regista Tyrus Hussain, è stato girato nel quartiere romano della Tiburtina, pubblicato a Roma Sud, ok? Voglio congratularmi pubblicamente con questa bravissima e bellissima artista, Leiline, Caralena Complimenti, perché hai realizzato un brano straordinariamente favoloso, ok? Grazie a tutti i cari utenti di YouTube, il video termina qua, iscrivetevi se vi va, mi raccomando, commentatevi, un saluto caro italiano, un saluto italiano e complimenti alle line.